la classe la classe il gruppo non ci speravi poi ultima zampata ultima manche 3 0 1 e ti porti a casa il massimo bottino si diciamo che è un gara un pochettino difficile nella prima maschia abbiamo preso una penalità quindi la seconda siamo saliti un pochettino diciamo in in apnea in apnea quindi poi nella terza abbiamo dato tutto sinceramente non credevo di andare a fare un 0 1 perché per me lo puoi dire che ti ho portato fortuna come no mi ha portato fortuna francesco toccandomi il mio peso che porto dietro soprattutto ti ho detto che secondo me avevi nelle corde e poter fare quel tempo quindi insomma tu non è che non credevi in te stesso invece avevo valutato che tu potessi farlo e poi fortunatamente per te ho avuto ragione io sì siccome no grazie a te farai tutto il campionato ovvio grazie ignazio buonaviris vincitore di classe il gruppo qui a capo basso grazie a te ciao a tutti grazie 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 a tutti